Il Bayern Monaco si muove per Cialanolo, secondo alcune indiscrezioni i tedeschi avanzano una super offerta all'Inter. A Can Cialanolo via dall'Inter? Un'eventualità che soltanto qualche giorno fa sarebbe apparsa piuttosto remota e che invece adesso inizia a farsi più concreta, il giocatore chiede un rinnovo di contratto a cifre elevate e su di lui c'è l'interessamento del Bayern Monaco. Quest'oggi, sulle pagine di calciomercato.it, vi abbiamo illustrato la situazione relativa a Cialanolo. L'Inter non intende procedere a un altro rinnovo dopo quelli di Lautaro Martinez e Barella, Marotta e Enzaghi vorrebbero trattenerlo ma sono consapevoli del fatto che respingere una offerta importante da parte dei tedeschi sarebbe difficile. In Turchia, Fnatic scrive proprio che i bavaresi sarebbero intenzionati a presentare ai nerazzurri una proposta da ben 70 milioni di euro per accaparrarsi il centrocampista. La vicenda sarà tutta da seguire nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.